I carabinieri della stazione di Lido di Camaiore hanno arrestato Tahir Marez, tunisino classe 70 nulla facente, scoperto quale responsabile di una serie di furti all'interno di due alberghi della Versilia, ai danni di alcuni dipendenti e dell'indebito utilizzo delle carte di credito rubate. L'uomo, lo scorso ottobre in giorni diversi, si era introdotto durante l'orario di apertura all'interno di due strutture alberghiere di Lido di Camaiore e dopo aver raggiunto gli spogliatoi dei dipendenti, aveva rovvistato negli armadetti di questi ultimi e si era impossessato di alcuni smartphone, soldi e carte di credito per poi utilizzare queste ultime per effettuare ripetutamente numerosi perelievi presso sportelli banco matta automatici. Al termine di una lunga attività investigativa i carabinieri hanno dunque identificato Marez che è stato tratto in arresto. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe anche responsabile dell'aggressione e danni di una guardia giurata e di una pattuglia di carabinieri una volta sorpreso a rubare negli armadietti del personale dell'ospedale di massa. Complessivamente il valore dei prelievi effettuati è risultato essere di 1.400 euro a cui si vanno ad aggiungere 150 euro in contanti, due smartphone ed un tablet.